La vostra isola è un centro di incontro di tante culture, di tante culture. Io non conosco Sicilia la prima volta, sono stato a Lampedusa e ora adesso qui. Anche la vostra lingua e i vostri dialetti hanno radice di tante lingue, di tante lingue. Il lavoro dell'integrazione, dell'accoglienza, di rispettare la dignità degli altri, la solidarietà per noi non sono buoni propositi per gente educata, ma tratti istintivi di un cristiano. Un cristiano che non è solidario e non è cristiano. La solidarietà è un'altra cosa del cristiano.